Musica Si accende l'estate al Val di Chiana Athlete Village con Summerfest e Village Night, un ricco calendario di eventi che prenderà avvio proprio questa settimana e che si concluderà a settembre. Soprattutto il mese di luglio ed agosto avremo ogni sabato sostanzialmente un'iniziativa legata alla musica, quindi il pretesto è quello di seguire un filone musicale, un genere musicale, si parte con lo swing, quindi gli anni 30 e 40, per poi proseguire con gli anni 50, facciamo un balzo al futuro, quindi arriviamo quasi ai giorni d'oggi con l'hip hop, la cultura un po' di arte di strada e poi si ritorna agli anni 70, quindi li abbracciamo un po' quasi tutti, ci saranno concerti, ci saranno momenti di intrattenimento, performance artistiche, delle mostre a tema, delle caratterizzazioni che ogni settimana faranno immergere in questo contesto. Il 2 settembre riflettori accesi sulla Village Night. Qui a Val di Chiana avremo come pre-serata le esibizioni, quindi la danza acrobatica dei Sonics, e poi, sempre accompagnati dai buoni vini toscani, arriveremo poi al concerto del Paolo Belli e la Big Band, quindi abbiamo dei nomi che sono conosciuti a livello nazionale, dei nomi che sono conosciuti anche grazie alla visibilità che hanno avuto in televisione e quindi ci aspettiamo veramente che sia una gran serata. Al fianco della musica ci sarà spazio anche per le eccellenze enogastronomiche del territorio. La serata è arricchita dalla possibilità anche di avere il gusto, un altro senso sviluppato, con delle degustazioni enogastronomiche delle eccellenze del territorio. Noi abbiamo una partnership stretta con la strada del vino nobile di Montepulciano e chiaramente loro saranno partner, saranno parte attiva proprio di questa serata.